buongiorno sono riccardo di fbbike.it sono tornato dalle ferie non ho fatto il video giovedì non mi sgridate per questo vi voglio però presentare oggi una vera novità del 2022 ovvero la Brennero una e-mountain bike motorizzata Bosch veramente interessante con un telaio particolare che la rende veramente una bici versatile da utilizzare a 360 gradi dalla città al fuoristrada telaio completamente nuovo ripeto prodotto made in italy dalla lombardo novità 2022 se interessati seguitemi andiamo ecco qua la Brennero urban 27 e mezzo perché è così interessante questa bici lombardo ha voluto creare una bici che possa essere utilizzata a 360 gradi quindi da chiunque estremamente semplice la salita e la discesa grazie a questo nuovissimo telaio che a prima vista sembra un telaio di una city ma in realtà è un telaio da mtb e è una bici che possa essere sfruttata al massimo ovvero sia per andare al lavoro fare la spesa grazie a a questa praticità di salire e scendere ma anche all'accessorio che viene dato su questo modello ovvero il portapacchi molto ben fatto e solido non minimo gioco e parafanghi in alluminio fari integrati quindi la rendono una perfetta city bike con la differenza che è montata e ha caratteristiche da mountain bike quindi ci permette di essere utilizzata durante la settimana e il fine settimana per i vostri trail o fuoristrada quindi sia per utility che per sport questo telaio può sembrare un telaio di una city in realtà è stato studiato per avere le stesse caratteristiche di una mountain bike quindi le sue sezioni la sua progettazione è fatta a sommo studio come potete vedere abbiamo in questa posizione il punto di ricarica della batteria e lo sportellino adagiato invece che sul sul retro sulla parte superiore questo è stato voluto per consentire un rapido accesso alla batteria e quindi di togliere e inserire la batteria in maniera agevole considerando che se uno la utilizza tutti i giorni anche per andare in ufficio può avere la necessità di estrarre la batteria in maniera semplice la brennero viene prodotta in due versioni urban e 27 e mezzo la urban ha i parafanghi fari e portapacchi e con una diversa trasmissione più adatta per un utilizzo da 360 gradi mentre la brennero normale ha una trasmissione più da vera fuoristrada senza parafanghi e senza portapacchi e fari vi metto la foto rossa e rosso lombardo verniciata col sistema elastrostatico quindi una verniciatura di ottima fattura di alta qualità cosa la contraddistingue da tante bici o city bike questa questa brennero la motorizzazione al top della sua gamma ovvero il bosch performance x generazione 4 quindi un motore potente da 85 newton di coppia una batteria da 500 watt sempre sistema bosch che si estrae grazie alla chiave e togliendo lo sportellino si può accedere alla batteria a toglierla e caricarla separatamente rispetto separatamente dalla dalla vostra bici il display il classico purion non sto a spiegarvelo perché ormai l'avrete visto in numerosi video questo è il purion unica cosa pretenendo premuto il tasto più si va ad attivare le luci sia anteriore che posteriore si ripreme il tasto più e le luci magicamente si spengono questa è una novità perché solitamente esistono le e mountain bike e le city bike qui abbiamo fatto un incrocio tra una mountain bike e una city bike molto interessante a mio avviso è venuto fuori un prodotto veramente di qualità e che sicuramente riscontrerà una una enorme richiesta sul mercato trasmissione corona anteriore 34 denti quindi una dentatura da e mountain bike mentre al posteriore abbiamo un deragliatore shimano deor m6000 frizionabile come vuole una e mountain bike e un pacco pignoni 10 velocità 11 42 denti trigger al manubrio sempre shimano il classico deor impianto frenante allora lombardo vista la situazione di mercato quindi la scarsa reperibilità delle componentistiche che fanno sì che vengano ritardate le consegne da parte dei produttori per il 2022 ha messo su certi componenti la possibilità di metterne uno anziché un altro nel caso in cui non si reperisca sul mercato allora questa da catalogo riporta un freno shimano mt200 o un tectro in questo caso è una una bici demo questa monta i clark non l'ho mai adoperati le userò mi sembrano validi siamo sul livello degli shimano mt200 o perlomeno loro dicono che il freno paritetico sempre un impianto idraulico abbinato a una pinza a due pistoni sempre clark's con disco da 180 mm all'anteriore mentre al posteriore abbiamo un 160 mm altra cosa importante per una mountain bike i cerchi e la dimensione del pneumatico qui troviamo un cerchio da 27 e mezzo con un canale da 32 mm di produzione lombardo ma il cerchio è un signum con un mozzo signum ma monta un pneumatico molto largo quindi con un impronta a terra molto molto larga infatti il pneumatico è un pneumatico da 27 e mezzo per 260 smart sam della schwalbe sia all'anteriore che al posteriore ecco questa questa caratteristica è molto importante perché la larghezza del pneumatico le conferisce un'ottima stabilità fuoristrada e e da anche molta sicurezza a chi la guida andiamo avanti con i dettagli abbiamo un reggi manubrio con snodo registrabile e un manubrio con ris 15 mm della signum manubrio molto largo davvero ai mountain bike e una sella da mountain bike della sella italia x1 ecco su questa avrei qualcosa da ridire ovvero primo non mi piace personalmente avrei preferito una sella un po più confortevole che una sella così sportiva e non mi piace esteticamente non l'ho provata è una sella sportiva quindi dura e forse su questo tipo di bici io sostituirei il seggiolino mettendo un seggiolino comfort quindi un seggiolino si sempre da mountain bike ma più confortevole forcella anteriore son tour xcm 100 mm di escursione bloccaggio dallo stelo a molla non ad aria una buona forcella ma molla con regolazione del del precarico da girando in senso orario questo manicottino qui quindi in senso orario si rigidisce in senza anti orario si ammorbidisce qui abbiamo la serratura per estrarre la batteria e qui il cari l'accesso per caricare la batteria bosch non poteva mancare il cavalletto cavalletto integrato sul telaio molto bestabile registrabile nell'escursione in modo da poter avere più o meno inclinata la nostra e bike a guardate la pinza del fiano anteriore con questo particolare in ergal questa prinza clark bella ripeto non l'ho mai adoperati i freni crack quindi non vi posso dire la loro validità quello che vi posso dire è la sensazione che dà la leva quando andiamo a premere dalla stessa sensazione di un di una leva shimano o tectro siamo giunti al termine questa bici ve la volevo far vedere perché sicuramente è una novità rispetto alle bici presentate finora o alle bike presentate finora vi dico la verità non l'ho ancora provata sono curioso perché è una cosa strana la larghezza del manubrio quindi vedete questa è una taglia s una 43 poi viene fatta la m e la l sinceramente la sensazione è di una bici confortevole però montandoci sopra dall'idea di una mountain bike a un'impostazione da ora è molto una mountain bike confortevole questa gomma larga e da questa sensazione mi piace mi piace e sicuramente per chi vuole utilizzare la bike tutti i giorni compreso le escursioni fuori strada sicuramente è un prodotto che troverà riscontro sul mercato prezzo di listino prezzo di listino 3399 euro è un prezzo in linea essendo motorizzata con il sistema bosch di ultima generazione quindi un motore potente 85 newton di coppia in un bosch che come saprete insomma le qualità di questo motore sono indiscusse quindi il prezzo di 3.399 euro è il listino lo trovate scontato sul nostro negozio fbi bike punto it e con uno sconto particolare per chi la prenota che in questo momento ovviamente va prenotata con consegne a marzo 2022 purtroppo la situazione contingente è questa ormai è il secondo anno che noi rivenditori ci troviamo ad affrontare un'enorme richiesta e una mancanza di e bike ormai diffusa a livello non voglio dire mondiale ma europeo sicuro ve la volevo presentare avrò un modo di provarla vi dirò le mie sensazioni quali sono state ricordatevi di iscrivervi al canale di seguire i prossimi video e mettermi un like se vi è piaciuto un saluto da riccardo ciao